buongiorno a tutti ciao davide buongiorno ciao ci ritroviamo non siamo nella gioiosa e festosa situazione dello sharewood festival siamo a radio sharewood e questo è il tg sharewood il tg sharewood è tornato ogni giovedì da oggi fino a tutto tutta la stagione ci ritroveremo e parleremo di attualità politica di approfondimenti perché riteniamo che comunque questo spazio debba continuare per tutto l'anno sì tg sharewood una sperimentazione che abbiamo lanciato durante l'ultimo festival di sharewood in cui abbiamo messo tutti insieme tutte quelle che sono le nostre potenzialità comunicative la radio le produzioni video di sharewood ma anche le testate giornalistiche che abbiamo come global sport alla rovescia e melting pot abbiamo messo insieme tutte tutte le nostre forze abbiamo creato questo tg in cui abbiamo affrontato tematiche sia locali ma anche delle delle tematiche a livello nazionale e adesso in una cornice nuova quella appunto di radio sharewood vogliamo continuare a informare vogliamo continuare a parlare di quello che succede nell'attualità ma anche di fare dei focus speciali e particolari su determinate su determinate tematiche del momento cosa che faremo proprio proprio oggi inizieremo con con un grande evento che c'è stato il 29 il 30 settembre a venezia una mobilitazione contro le grandi navi ma che è stata qualcosa di più di un di un evento locale o regionale e infatti il 29 30 settembre è stata una due giorni importantissima è partita una sfida contro questo governo sul tema delle grandi opere si sono incontrati i principali movimenti e comitati contro le grandi opere e per la giustizia ambientale presente in italia e vedremo nel corso della trasmissione quali sono le proposte che sono uscite da da questa due giorni ed entriamo nel nel pieno della della tematica che appunto citavamo prima e che affronteremo oggi ossia quella di questa due giorni contro le grandi opere contro le le grandi navi nello specifico come mobilitazione il il sabato c'è stata una una grande assemblea al sale i magazzini del sale di di venezia in cui hanno partecipato centinaia di persone e qui hanno preso parola tantissime associazioni comitati ambientali collettivi di di tutta la penisola c'erano presenti no tav no tap no muos i comitati anche regionali veneti contro il fas contro la pedemontana eccetera eccetera quindi davvero un'assemblea molto partecipata in cui tutti non soltanto hanno portato quelle che sono le battaglie che nelle nei propri territori vengono portate avanti ma abbiamo cercato anche di di trovare una sintesi insieme e di anche iniziare a portare delle proposte concrete di di lavoro e di mobilitazione molta poca autonarrazione in questa assemblea come si può evincere anche dal report che è girato sulla pagina facebook del comitato no grandi navi sul sito notav.info è stato ripreso da da altri siti di movimento tra cui global project e molta poca autonarrazione c'è stata tanta sostanza questo testimonia il fatto che la questione ambientale è sempre più dirimente all'interno dei rapporti di forza che governano l'esistente lo diciamo da da tanto tempo abbiamo fatto tanti approfondimenti tanti dibattiti sul fatto che il rapporto capitale ambiente in questa fase è sicuramente centrale per ribaltare quelle che sono le dinamiche attraverso cui il capitalismo si allarga quel capitalismo estrattivo che appunto affama i territori che devastano l'ambiente e questa cosa si emerge in un'assemblea in maniera limpida ma soprattutto è importante anche che per la prima volta credo i principali comitati ambientali si sono ritrovati hanno costruito un piano d'azione comune una piattaforma una serie di interventi che ci saranno iniziative nei vari territori per costruire una mobilitazione è stata già dichiarata questa mobilitazione nazionale contro il governo ricordiamo che questo governo soprattutto la parte dei cinque stelle la quinta stella dei cinque stelle che era quella legata all'ambiente questo governo aveva speso tantissimo in campagna elettorale proprio sul tema delle grandi opere adesso si trova in enorme difficoltà su tantissime questioni esattamente esattamente è stato proprio anche l'attacco all'attuale governo uno dei dei punti centrali di questa di questa assemblea un attacco a questo governo proprio perché la parte soprattutto come dicevi benissimo tu del del movimento cinque stelle è stata una componente attiva in molti di questi anche di questi comitati territoriali basti pensare alle prese di posizione del movimento cinque stelle per quanto riguarda la tav e infatti poi più avanti sentiremo anche un esponente del movimento no tav che ci racconterà appunto qual è la situazione in valle e quindi questa ma anche in campagna con con stop biocidio il movimento cinque stelle ha fatto pieno di voti proprio anche su quella che è la la questione dei dei cambiamenti climatici sulla questione ambientale è una volta che si è ritrovata al governo ha voltato le spalle ai propri elettori ha voltato le spalle a questi a questi comitati territoriali noi sabato abbiamo intervistato marco baravalle che c'ha che era il relatore della dell'assemblea che ci ha fatto anche un po un punto su come su come è andata l'assemblea su quello che è uscito e sulle sue e sulle sue sensazioni quindi ascoltiamo l'intervista marco baravalle e ritorniamo in studio l'assemblea è stata un'assemblea bella nel senso molto partecipata direi 300 persone attiviste e attivisti da tutta italia da tutti i comitati territoriali movimenti contro le grandi opere importante perché ha sancito una cosa sancito il fatto che da venezia parte un percorso che porterà tutti questi movimenti e tanti altri ad organizzare una mobilitazione nazionale noi vorremmo una manifestazione nazionale a roma entro la fine dell'autunno entro la fine dell'anno chiaramente bisogna farlo con un processo vero cioè non si può pensare di indire una manifestazione e poi sperare che le persone arrivino tutti i nostri comitati che essendo veri comitati territoriali avendo reali basi territoriali faranno un lavoro a casa propria nei propri territori per portare più gente possibile per costruire questo fronte contro le grandi opere e per la giustizia per la giustizia climatica una cosa emersa molto chiara un'indicazione politica che i movimenti non si fidano del governo non si fidano del cosiddetto cambiamento e abbiamo ascoltato marco baravalle che ha spiegato in maniera limpida e chiara quello che sarà il percorso ricordiamo che il prossimo passaggio sarà una grande assemblea che prenderà i temi di quella di venezia in val di susa e parliamo proprio della questione della val susa perché è stato sicuramente uno dei temi caldi in questi mesi per il governo uno dei problemi principali è probabilmente la contraddizione principe quella del tav esattamente esattamente proprio in questi giorni che ci avvicinavano alla due giorni veneziana girando un po così su internet sono andato a rileggere tutte le dichiarazioni del del movimento 5 stelle per quanto riguarda la tav e anche alcuni alcuni video in cui addirittura c'era beppe grillo in in una manifestazione la famosa manifestazione del luglio del 2011 che prendeva in mano i gas il lacrimogeni cs denunciando le violenze della polizia denunciando quello che il la tav stava 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 e sta deturpando nella nella valle e a distanza di anni il movimento 5 stelle come dicevo prima ha cambiato radicalmente ha cambiato radicalmente idea non non sta più prendendo posizioni e questa è una cosa assolutamente assolutamente assurda in questo periodo per ritornare tra l'altro al alla situazione della della repressione in valle sta tornando una fortissima repressione e ci raccontavano in assemblea che durante tutti i campeggi che sono stati fatti quest'estate sono stati interventi della polizia stanno arrivando nuovamente denunce quindi il livello di tensione in valle sale nuovamente e i progetti vanno avanti i cantieri vanno avanti e queste grandi opere continuano ad essere ad essere costruite e ci ascoltiamo quello che ci ha detto francesco richetto che è un attivista notav proprio su questi temi da sempre cerchiamo di confrontarci con tutto ciò che si mobilita e si muove al di fuori del nostro territorio attualmente da quando si è insediato un nuovo governo sono arrivate a chiomonte dopo due anni di stop del cantiere delle nuove recinzioni che servirebbero all'allargamento per costruire il tunnel di base quindi questa fase esplorativa per vedere se l'opera ha senso farlo o meno di fatto da un punto di vista progettuale e tecnico si è chiusa e si dovrebbe aprire lo scavo del tunnel di base noi ci siamo mobilitati durante tutta l'estate la risposta è stata quella di tutti i governi che hanno preceduto quello attuale quindi lacrimogeni cariche della polizia fino ad arrivare a provvedimenti del questore come fogli di via e anche provvedimenti come denunce alla procura della repubblica quindi siamo di fatto in continuità con i governi precedenti si stanno preparando per andare avanti con i lavori nonostante ci sia questo spot elettorale del ministro che dice ripensiamo all'opera vediamo al momento lo stato attuale delle cose che sono pronti a proseguire per cui il prossimo appuntamento sarà proprio un'assemblea in Val di Susa ma nella due giorni veneziana abbiamo assistito davvero a tantissimi interventi c'è stata una qualità e una ricchezza delle questioni che sono state poste veramente incredibile da nord a sud e un altro dei temi caldi è quello del biocidio anche perché abbiamo un ministro dell'ambiente il ministro Costa che è come dire millanta una soluzione per quel che riguarda la terra dei fuochi dopodiché il decreto in realtà non ha messo in discussione nessuno di quelli che sono i problemi reali di quel territorio stiamo parlando ovviamente della campania sì un decreto che non appunto come dicevi tu non va a risolvere i problemi di un territorio martoriato come quello campano ma è un decreto che riorganizza il ministero nelle sue componenti quindi proprio nessuna azione diretta diciamo in questo senso anche qui la figura del generale Costa che ricordiamo appunto un carabiniere era una figura che ad alcuni non a noi ma ha dato speranza perché comunque una persona che è stata sempre all'interno del lavorato nelle tematiche ambientali quindi una persona un tecnico e quindi qualcuno che poteva realmente introdurre dei cambiamenti ma poco è cambiato in campania in questi mesi continuano ad esserci settimanalmente incendi all'interno della regione campania quindi il problema del biocidio continua ad essere una tematica molto importante Raniero un attivista della rete stop biocidio ci ha raccontato durante l'assemblea qual è la situazione attualmente in campania e ovviamente anche la rete stop biocidio ha sposato la proposta di una mobilitazione nazionale contro appunto le devastazioni ambientali dalla prospettiva dei comitati stop biocidio quindi di chi si batte contro il sistema criminale fatto da Camorra Stato e imprenditoria deviata in campania questa proposta che viene fuori da questa assemblea è una grandissima occasione abbiamo fatto tanti chilometri con entusiasmo e con determinazione perché crediamo che sia finalmente arrivato il momento di unire tutti quelli che si battono sui propri territori a tutela della salute e dell'ambiente per andare a raccontare che questo governo ci ha tradito ci ha tradito perché chiaramente dalla nostra prospettiva è un governo nemico nella componente della Lega Nord che è responsabile non solo di odio razziale nei nostri confronti ma è piena protagonista delle politiche nordcentriche che hanno svuotato dal punto di vista economico e sociale le regioni del sud le hanno di fatto rese luogo disponibile allo sversamento dei rifiuti industriali provenienti dal nord e quindi luoghi di assorbimento dei costi ambientali e sociali di una produzione che arricchisce sempre i pochi soliti noti è un governo nemico perché è un governo che ha tradito nella componente del 5 Stelle perché è un partito che ha preso il 60% dalle nostre parti e oggi non ci restituisce altro che un decreto fuffa chiamato terra dei fuochi ma che è tutt'altro tranne che una legge, uno strumento legislativo che affronta la problematica della terra dei fuochi infatti il decreto terra dei fuochi che per quanto uno ne può pensare semplicemente riorganizza le funzioni ministeriali del ministero dell'ambiente è lo stesso tradimento che vivono i cittadini della Val Susa è lo stesso tradimento che vivono i comitati in Oterzo Valico è lo stesso tradimento che vivono i cittadini di Taranto sulla questione Ilva per cui questo governo è un governo nemico c'è assolutamente necessità di partire da tutti questi territori per andare a Roma a raccontarlo che non sono graditi in questo paese e che abbiamo la necessità di andare a imporre le nostre soluzioni quindi abbiamo visto da nord a sud tutta l'Italia si immobiliterà contro le grandi opere e contro il governo abbiamo avuto attivisti not up c'è stato l'intervento anche di Riondino su un altro dei temi caldi quello dell'Ilva, la svendita dell'Ilva sostanzialmente Di Maio ha ripreso l'accordo di Calenda l'ha semplicemente gestito mediaticamente in un modo diverso ma di fatto la sostanza è che l'Ilva non verrà dismessa non verrà bonificata e quindi a Taranto si continuerà a morire siamo ritornati in studio, audio e video come dicevamo in precedenza oltre ai tanti comitati nazionali erano presenti tanti anche comitati regionali a partire dal comitato NOFAS alla NOPE de Montana, NO Valdastico, Opzione Zero NO GPL Chioggia e appunto il comitato NO Grandi Navi che ospitava la Due Giorni si è quindi parlato di quelle che sono le tematiche ambientali regionali oltre a quella delle NO Grandi Navi appunto e della costruzione di autostrade in maniera sproporzionata per quello che è direi il territorio veneto sicuramente quella dei FAS è davvero una situazione molto grave perché coinvolge tre province e coinvolge davvero tutte le persone che vivono in questi territori appunto lo sversamento nelle falde acquifere perché ormai si tratta appunto di falde acquifere totalmente inquinate sta creando davvero dei danni ahimè irreversibili e come hanno raccontato durante l'assemblea sia le mamme NO FAS perché erano presenti anche loro all'assemblea ma anche i militanti del comitato ormai nel sangue di tantissimi veneti i livelli di FAS sono oltre la norma in maniera davvero eccessiva ed è una situazione molto molto critica e chiudere la Miteni è stato uno degli slogan che abbiamo più sentito da parte dei vari comitati ambientali da parte dei Climate Defense Units è stata un'istanza reale un'istanza importante quella perché avere una fabbrica è un po' come la questione dell'Ilva avere una fabbrica che continua a produrre morte continua a produrre devastazione è un po' diciamo il simbolo di una regione che molti chiamano la terra dei fuochi del nord per cui ascoltiamo quello che dice Michela che è una mamma NO FAS che ci spiega tutta la contraddizione molto importante legata a questo problema in tre province del Veneto come dicevi Salve a tutti sono Piccoli Michela una portavoce delle mamme NO FAS del Veneto sono qui oggi perché voglio farvi capire con un breve discorso qual è il nostro grosso problema grazie a un biomonitoraggio fatto dalla regione Veneto abbiamo scoperto che nel sangue dei nostri bambini e comunque adesso anche di tutti i nostri cittadini ci sono valori di FAS che è una sostanza per fluoroalchilica tossica, bioaccumulabile e cancerogena che si trova nel sangue della nostra popolazione con limiti dai 10 alle 30 alle 70 volte superiore al range consentito la richiesta che noi facciamo alla regione Veneto è quella di avere la georeferenziazione che hanno fatto sullo studio dei cibi che dobbiamo ancora averla è stata fatta una georeferenziazione parziale che si basa su mediane ma noi vogliamo capire veramente quali sono le zone e quali sono i punti dove appunto i terreni sono più inquinati poi vogliamo anche dare il nostro contributo e portare la nostra non parlo di protesta ma le nostre iniziative le nostre istanze all'Unione Europea perché questo non deve più accadere in tutta Europa non solo in tutto il nostro pianeta ma anche nella nostra Europa perché se hanno permesso che succeda questo in Italia domani può succedere in un altro paese dell'Unione Europea andare inquinare altri bambini e altre famiglie io sono molto amareggiata molto perché il nostro nord-est da tutti come si dice visto come una grande una grande forza economica col passare degli anni si è rivelato la nostra distruzione la distruzione di tutte le nostre famiglie del nostro territorio per cui si va a favorire un'azienda un'industria si vanno a favorire delle cose a scapito poi sempre dei più deboli delle persone delle famiglie forse se con quei soldi lì per curare il problema li usassimo magari per aiutare le aziende per fare in modo che le aziende usino circuiti sistemi a circuito chiuso sistemi ad impatto ecologico ad impatto ambientale zero in modo che prelevano acqua pulita e possano sversare la stessa acqua pulita che hanno prelevato ci vogliono leggi che impediscano di andare a costruire fabbriche sopra la ricarica degli acquiferi e abbiamo ascoltato Michela che ci ha spiegato quelle che sono le condizioni in cui si vive soprattutto nella zona rossa ebbene Michela però ha detto anche delle cose importanti Michela è una mamma non è un'attivista storica dei movimenti però nell'intervista dice delle cose importanti perché alcuni giorni fa per una manifestazione che è stata fatta di fronte alla fabbrica Miteni sono arrivati cinque avvisi di garanzia sentiamo cosa ci dice poi una cosa vergognosa e questa mi ha fortemente amareggiata in questi giorni cinque attivisti hanno ricevuto un avviso di garanzia perché hanno fatto una manifestazione senza un'autorizzazione e io sono per la legalità sempre non ho mai infranto nessuna legge perché non fa parte del mio modo di essere i miei figli insegno sempre di essere corretti ma allora se la giustizia è giustizia per tutti questa azienda dovrebbe essere chiusa e allora se io domani guido senza patente me la ritirano se questi inquinano e hanno permesso che 800.000 persone tre province del Veneto Verona Vicenza e Padova siano inquinate anche loro devono chiudere devono pagare e allora perché due metri e due misure perché due metri e due misure fino a qualche mese fa io pensavo che forse era meglio che mi trasferissi in un'altra parte ma sono stati i miei figli a dire mamma ma che cosa stai pensando io non voglio andare via dal mio paese io voglio restare qua quando poi ti accorgi che vengono inquinati dalla cosa a cui tu mai avresti pensato che è l'acqua è terribile questa cosa è terribile perché non possiamo fare a meno dell'acqua nella maniera più assulta per cui uniamoci care mamme e cerchiamo con i nostri talenti le nostre capacità ingegniamoci possiamo farcela se vogliamo perché ce l'abbiamo la testa per farlo chi dipinga chi sa dipingere dipinga chi sa scrivere scriva chi sa ogni cosa che noi facciamo possiamo usarla per il bene di tutti che non sia un bene a se stesso ma per il bene di nostri figli siamo tornati in studio abbiamo sentito le parole di Michela sono state delle parole molto forti è una mamma che non si rassegna non si rassegna né per sé ma anche come diceva per i propri figli lei vuole che i propri figli continuano a crescere in Veneto e che stiano in questi territori e quindi non c'è rassegnazione nei suoi occhi ma c'è voglia di lottare e questo movimento sta lottando in maniera molto forte e è determinata infatti c'è una una forte volontà di mobilitarsi a livello regionale che è proprio anche una proposta che è stata fatta appunto durante il pomeriggio in assemblea certo non c'era nemmeno paura negli occhi di Michela se le procure pensano di impaurire gli attivisti magari meno esperti con avvisi di garanzie e denunce non ci riescono perché è talmente alta la posta in gioco questo lo vediamo qua in Veneto lo abbiamo visto in Val di Susa in Salento è talmente alta la posta in gioco che vale sempre comunque la pena continuare a lottare è stato importante il momento di confronto anche tra le realtà regionali sicuramente c'è un obiettivo politico che è quello del governo della Lega la Lega oltre a governare a livello nazionale da decenni governa questo territorio l'ha espoliato l'ha devastato è complice di tutte le principali malefatte che sono state fatte scusate il gioco di parole in questi territori e all'interno quindi di questo percorso verso la mobilitazione nazionale sul tema delle grandi opere ci sarà anche un momento di preparazione e un momento di iniziativa politica sotto la regione sentiamo cosa ci dice Enrico del Comitato resistenza ambientali di Padova che ci spiega un po' quello che sarà il percorso regionale c'è un problema molto forte molto sentito che è la questione legata all'inquinamento delle falde acquifere dei FAS che coinvolge circa 850.000 persone tra le province di Verona Padova Venezia e Vicenza scusate che fondamentalmente pongono il problema e la proposta scusate di costruire una mobilitazione a livello regionale contro la regione Veneto perché perché la regione Veneto è quella lente che dovrebbe l'istituzione che dovrebbe controllare l'ARPA che ha tenuto nascosto i dati dal 2005 in poi dei FAS nelle falde acquifere e negli acquedotti la regione Veneto è quella che sta permettendo lo scempio della pedra in montagna Veneto la regione Veneto è quella che permette questo ulteriore scempio che sono le grandi navi nella laguna di Venezia la regione Veneto è quella che ha fatto la proposta insieme alle autostrade di costruire l'A31 oltre Piovene Rocchette fino al raggiungimento in teoria con con Trento quindi tutte le contraddizioni le contraddizioni che ci sono in Veneto hanno una responsabilità politica che è quella della regione Veneto e crediamo che sia giusto costruire una mobilitazione dove tutti quanti i comitati ambientali e regionali esprimano un dato di contrarietà contro le politiche della regione Veneto a Venezia per il 17 novembre ovviamente terremo un'assemblea un momento di confronto di elaborazione dell'avvertenza e di piattaforma per costruire la mobilitazione ma diciamo la proposta è stata fatta e quindi è già un'indicazione di data che è emersa dall'assemblea di ieri ecco questo è un po' lo spirito di quello che c'è stato ieri all'assemblea che si è tenuta nel Saledox il 29 settembre è un inizio è un buon inizio che dal nord al sud del paese ribellarsi per la giustizia climatica ribellarsi contro il crimine ambientale oltre che a essere naturale è anche un elemento costituente per i movimenti futuri di questo paese abbiamo sentito Enrico siamo ritornati in studio quindi già questa assemblea nazionale lancia due appuntamenti un appuntamento regionale di manifestazione sotto la regione Veneto che come abbiamo detto in precedenza è la colpevole di quelle che sono le malefatte ambientali in regione è una manifestazione nazionale quindi due appuntamenti molto chiari ma la due giorni è finita con una bellissima iniziativa domenica contro le grandi navi è stata una manifestazione importante dopo tanto tempo si è tornati in barca è stato bellissimo vedere i barchini che si contrapponevano alle grandi navi della corcera ne sono passate 4 ma ricordiamo ne sarebbero dovute passare 18 molte compagnie hanno deciso di anticipare le partenze o di rottarle su altri porti proprio perché avevano paura della mobilitazione tantissima gente in riva è stata davvero una manifestazione se vogliamo anche epocale perché traeva forza da quella che è stata l'assemblea del giorno prima ma trae anche forza da un percorso reale la questione grandi navi è una questione importante fondamentale è importante non solo per la sopravvivenza di Venezia ma anche per tutti coloro che ambiscono a volere delle città che siano libere dal modello di sviluppo attuale sì Venezia è una città molto fragile una città basata appunto su un equilibrio molto fragile che mostri come quelle delle grandi navi rompono in maniera davvero davvero allucinante è stata una giornata molto bella vedere quelli che dovrebbero essere i protagonisti quotidiani i protagonisti che davvero devono vivere la laguna ossia i barchini i barchi e remi piccole imbarcazioni e non quei mostri quei mostri che tra l'altro portano in due giorni a Venezia 80.000 persone quindi più persone di quelle che attualmente sono residenti a Venezia Venezia ormai sta diventando un grandissimo parco giochi non è più una città come tutte le altre ma davvero sta diventando un parco giochi l'abbiamo visto nel corso di questi mesi tornelli turismo davvero davvero sfrenato quindi non è un modello sostenibile per una città come dicevo prima molto fragile sicuramente il fatto che dicevi tu che sia stato deciso che le navi rispetto agli anni passati perché questa delle mobilitazioni delle non grandi navi è una mobilitazione che va avanti da parecchio tempo e per esempio l'anno scorso abbiamo visto che le grandi navi hanno ritardato le loro partenze sono passate in serata invece quest'anno hanno voluto sfidare i manifestanti che si trovavano in acqua addirittura anche con dei mezzi diciamo di fortuna e sono passate scortate dalla polizia questo senza dubbio è stato una prova di forza abbastanza fastidiosa sia da parte della questura che ha permesso tutto ciò ma anche da parte delle navi da crociera che hanno deciso ugualmente di rispettare i loro orari e di passare ma anche l'atteggiamento della polizia in acqua è stato un atteggiamento molto difficile e molto particolare rispetto alle altre volte i barchini sono stati speronati ci sono stati episodi davvero gravi la polizia ha messo a repentaglio la vita delle persone in più di una circostanza e leggiamo in tutto questo anche un po' quello che sta accadendo in altri territori dove l'aumento della repressione è davvero esagerato e tutto quello che riguarda poi le manifestazioni di dissenso ovviamente si dovrà sicuramente modulare rispetto a questa situazione per quel che riguarda la giornata di domenica a Venezia è sicuramente il segnale che è stato dato politico al governo è stato un segnale forte è evidente che questo governo è in difficoltà è evidente che questo si ripercuote anche su quello che è stato l'atteggiamento della polizia questo lo dice Marco Baravalle e ascoltiamo un altro pezzo della sua intervista che parla appunto di questi della giornata di domenica oggi una manifestazione molto molto partecipata decine decine di barche di barchini di barche a remi di piccole imbarcazioni a motore media di persone sulla riva delle Zattere una grande festa una festa che però poteva finire male cioè qualcuno poteva farsi male perché perché il passaggio della terza e ultima nave la polizia è impazzita ha iniziato a fare delle manovre pericolosissime abbiamo testimonianze di persone che sono state schiacciate dai mezzi di polizia verso la grande nave quindi con conseguenze che potevano essere tranquillamente fatali abbiamo la testimonianza di un manifestante che è stato investito con la sua piccola imbarcazione da due barche della polizia una poppa una prua è andata bene così nessuno si è fatto male però è un segnale brutto è un segnale che ci dice come non esistono governi amici se noi ci aspettavamo oggi che i proclami dei 5 Stelle avessero qualche effetto nel bloccare nel ritardare le navi in realtà è successo esattamente l'opposto quindi noi di proclami non ci fidiamo più non ci siamo mai fidati del resto negli ultimi sette anni qualsiasi governo ha detto ad un certo punto che avrebbe limitato fermato il passaggio delle navi in città nessuno l'ha fatto non lo faranno questi qua ma noi siamo più determinati che mai sappiamo che un cambiamento viene dalla mobilitazione noi siamo sette anni che scendiamo in piazza ed in acqua e continueremo a farlo e saremo sempre di più e questo era Marco Baravalle siamo quasi alla fine di questa prima puntata del TG Sherwood versione autunnale possiamo chiamarlo in questo modo assolutamente e torneremo le prossime settimane ci sono stati ovviamente oggi abbiamo volutamente dedicato la puntata alla due giorni di Venezia ma ci sono state tantissime cose che sono successe degne di nota e di approfondimento assolutamente sicuramente nelle prossime puntate affronteremo tante discussioni di attualità politica ma anche faremo dei focus su delle tematiche un po' più ampie sicuramente uno di questo sarà il decreto Salvini ma anche tutta che è legata strettamente legata alla situazione migratoria in Italia di questo periodo martedì è successo un fatto molto grave è stato arrestato il sindaco di Riace Mimmo Lucano ne parleremo giovedì prossimo e approfondiremo la tematica in maniera più attenta però è assolutamente un fatto gravissimo che il sindaco di un modello di accoglienza studiato in tutto il mondo venga arrestato quando nel sud Italia tantissimi sindaci fanno davvero le robe più assurde sono lì ancora in carica questo della situazione dei sui migranti è un aspetto molto importante e fondamentale ieri sono passati cinque anni dalla prima strage nel mar Mediterraneo appunto il 3 ottobre del 2013 sono morte più di 200 persone a largo di Lampedusa e da quel lontano ottobre del 2013 ad oggi sono tantissimi morti in mare il decreto prima Minniti e il decreto Salvini adesso stanno continuando a fare morti nel nostro mar Mediterraneo quindi approfondiremo queste tematiche parleremo del decreto Salvini e questa battaglia comunque contro il decreto Salvini sicuramente porterà anche una mobilitazione fortunatamente ci sono tante realtà antirazziste che si stanno muovendo questo è un tema che ha la necessità di emergere in maniera forte in questa fase politica ieri però abbiamo visto tantissima solidarietà a Mimmo in tutte le città d'Italia praticamente anche qua a Padova in tutto il nord est sono scese in piazza centinaia migliaia di persone per solidarizzare con il sindaco di Riace e ricordiamo anche ne parleremo le prossime volte che è nato un percorso di costruzione per una mobilitazione nazionale probabilmente il 10 novembre anche su questi temi ma ritorneremo le prossime volte un appuntamento che possiamo lanciare è quello del 6 ottobre sabato 6 ottobre a Riace in cui appunto si farà sentire forte la vicinanza a Mimmo quindi parteciperemo tutti sicuramente in tanti per portare la nostra solidarietà una persona che di solidarietà ne ha portata tanta a tante persone scusate il gioco di parole ma è davvero una roba molto importante e allora forza Mimmo e ci salutiamo con un pezzo tratto da Nevermind dei Nirvana in Bloom ciao a tutti ciao